Salve e buongiorno, sono l'ingegnere Francesco Marinelli e sono uno dei consulenti di Borghi Autentici d'Italia, questa associazione nazionale di piccoli comuni, di piccole comunità locali che conta in Italia oggi tra i 250 e i 300 comuni, associazioni di comuni, comunità montane e così via. Per me questo dell'essere consulente di questa associazione è motivo di orgoglio ma anche di crescita personale e culturale e volevo ringraziare innanzitutto Italia Nostra per il coinvolgimento della nostra associazione Borghi Autentici d'Italia in questo bellissimo progetto. In particolare mi è stato chiesto di sviluppare un po' il tema dei beni immateriali, cosa che di fatto è l'elemento trainante e portante dell'attività di Borghi Autentici d'Italia. Borghi Autentici d'Italia è per statuto costituito da piccole realtà locali, al massimo possono avere 30.000 abitanti e dei aiuto e sostegno di quei comuni che come ci piace dire non si arrendono e hanno voglia di fare. I punti di forza su cui noi riteniamo che i piccoli Borghi e i comuni possano esprimere tutta la potenzialità e tutto il loro valore è proprio dalla caratterizzazione di quelli che sono i beni immateriali. Inizio magari citando la definizione di beni immateriali della Treccani, dove la Treccani dice si tratta di beni incorporei che assumono prioritariamente il ruolo di nuovo bene nel momento in cui si estrinsecano in un elemento materiale e assumono la qualità di bene giuridico allorché è riconosciuto dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica. Perché ho voluto citare questa definizione? Perché è un po' la mission che Borghi Autentici d'Italia si è voluta dare, quella di partire dalla conoscenza e dalla consapevolezza dei beni fondanti di una comunità, che sono quelli immateriali, per poi trasformare l'immaterialità di questi beni in un'opportunità di sviluppo sociale, ambientale ed economica dei Borghi stessi. In questo Borghi Autentici d'Italia rappresenta un vero laboratorio. Rispetto a questo tema, cosa fa l'Associazione per i suoi comuni? Sviluppa progetti. Non si ritiene che sia sufficiente enunciare, presentare, documentare la realtà dei Borghi, ma che ogni Borgo in rete con gli altri, quindi condividendo progetti o facendo riferimento a progetti già sviluppati, possa aumentare la sua capacità di essere un luogo dove prioritariamente si vive bene. Il tema fondante quindi è quello della qualità della vita, basata sul rapporto e sulla conoscenza reciproca delle persone, sulla conoscenza dei valori fondanti della comunità che possono essere l'artigianato tradizionale, come la cultura dei cibi, i particolari prodotti che esprime una comunità, così come la musica, la danza e tutto ciò che caratterizza e rende solidale una comunità. Se voi andate nel sito della nostra associazione www.borghiautentici ditalia.it trovate un link a quelli che si vengono definiti progetti, progetti passati, progetti presenti, progetti in corso. Ed è lì che gli aderenti, gli amministratori di Borghi Autenti d'Italia attingono a quanto già fatto o propongono quanto hanno in animo di fare. Parlando di beni immateriali, il primo è l'essere comunità. Uno dei progetti sviluppati dalla nostra associazione si chiama in questo modo e cerca di valorizzare il capitale umano e sociale della comunità locale. In che modo? Attraverso il sostegno e la creazione in sede locali di cooperative e di comunità, su questo mi sofformerò più avanti. Sviluppo di servizi di diffusa utilità sociale. Piano locale per i giovani e per il sostegno alla creatività dei talenti giovanili e la lotta alle derive. Il piano locale per l'impario opportunità e così via. All'interno di questo contenitore si tende a valorizzare le potenzialità e evidenziare le modalità con cui queste possono essere sviluppate, facendo riferimento alle esperienze che per ogni singola iniziativa questi progetti tematici vengono sviluppati in singoli borghi o in reti di borghi tra di loro. Uno dei progetti importanti della nostra associazione è quella della creazione delle cooperative di comunità. È un esperimento che è nato principalmente in Puglia, in particolare a Melpignano, dove sul tema dell'interesse economico legato al conto energia, il posizionamento dei pannelli fotovoltaici che arricchivano le persone o le imprese, cosa importante, si è fatto questo esperimento di pensare e ideare una modalità diversa di essere cooperativa, quindi non solo per la mutua assistenza ma anche per il benessere sociale. I cittadini di Melpignano hanno reso disponibili i loro terrazzi, le imprese, l'amministrazione, i produttori di tecnologie si sono uniti in questa forma di nuova modalità di fare cooperativa, sono stati fatti accordi con le banche che hanno finanziato lo start up del posizionamento dei pannelli fotovoltaici sui tetti resi disponibili gratuitamente dai cittadini, hanno lavorato le imprese locali per poter installare i pannelli, gli utili, tutto ciò che avanzava dall'aver pagato chi partecipava al progetto finivano al comune e con questi soldi si pagavano l'acquisto di libri scolastici, si riparavano sentieri, si traduceva questo valore in bene sociale. Altra cosa che è importante da dire e quello che cerchiamo di promuovere è la consapevolezza della qualità del vivere in un borgo, lì dove vengono garantiti e devono essere garantiti i bisogni primari, il vivere in un borgo, quindi in un luogo che di solito ha una qualità dell'aria superiore alle città, dove è più facile incontrarsi, dove i luoghi di aggregazione sono disponibili, dove il rapporto tra cittadino e istituzione è quotidiano, spesso i cittadini stessi non si riconoscono nella qualità di questa loro vita. Di qui è nato un altro progetto di Borghi d'Italia si chiamava Borghi della Felicità, è un progetto che è stato sperimentato in due realtà importanti della nostra associazione, Saluzzo, un bellissimo paese del cuneese estremo nord-ovest e Melpignano, altrettanto bel paese anche se più piccolo dell'estremo sud-est del Salento. Cosa si è fatto? Si sono creati dei laboratori partecipativi dei due comuni tendenti a rendere evidenti ai partecipanti la qualità della vita che si esprimeva nei Borghi stessi. Si sono individuati dei temi prioritari, su questi temi sono stati fatti sui divisi per qualità sociale, qualità ambientale, qualità economica e su questo si è sviluppata questa rete di incontri che tendevano a rendere evidenti i vantaggi, le potenzialità dell'essere abitanti partecipi di una comunità locale. I risultati sono stati decisamente positivi e si è messa a punto una metodica, una metodologia di progettazione partecipata che poi può essere utilizzata in un qualsiasi altro borgo interessato allo sviluppo di questa iniziativa. Altra cosa importante, abbiamo parlato di cooperativa, di comunità, facendo l'esempio di Melpignano, questa cosa si è sviluppata, è diventata legge regionale e le cooperative adesso sviluppano il tema dell'ospitalità, della valorizzazione dei cibi tradizionali e così via. Ma i progetti che accompagnano la nostra associazione sono veramente numerosissimi e accompagnano i vari temi, per cui ad esempio nel 2018, anno del cibo italiano, l'associazione ha promosso comunità del cibo buono e autentico. È stato veramente un escursus tra quelle che sono le piccole produzioni di valore delle comunità locali, è stato creato un modello organizzativo, il nostro sito funziona da promotore delle attività dei singoli aderenti, per cui diventa più evidente a tutti cosa viene fatto all'interno della comunità. E questo è fondamentale, un piccolo comune non ha la potenzialità da solo di valorizzarsi, non ha la forza di rendersi evidente ai medi, aggregandosi, facendo parte di una realtà locale, nazionale, tutto ciò che viene fatto diventa molto più evidente. Ultimo tema che volevo sottolineare è quella della rete nazionale delle comunità ospitali, è stato fatto un progetto che è stato cofinanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo in cui si è teso a realizzare a livello nazionale una rete di comuni, di comunità che hanno accettato di creare quelle che si chiamano alberghi diffusi, il recupero dei centri storici destinandoli all'ospitalità, ma in cui i protagonisti non sono i grandi stakeholder nazionali e internazionali, sono i cittadini stessi che si organizzano in forme societarie, una di questa potrebbe essere la cooperativa di comunità e imparano ad ospitare, ad accogliere, a raccontare a quello che noi non chiamiamo turista, ma che chiamiamo cittadino temporaneo, quali sono i valori immateriali che caratterizzano il borgo, lo accompagnano in percorsi, gli indicano i sentieri, gli fanno assaggiare i prodotti locali e quindi si crea questa capacità di rendere economica il grande valore costituito dall'essere comunità e quindi di essere partecipi di questi beni immateriali. Su questo tema si potrebbe parlare tanto, spero di avervi dato almeno qualche elemento che poi troverete sicuramente maggiormente sviluppato nel sito dell'associazione dove questi progetti vengono tutti descritti e resi evidenti. Grazie, buona giornata a voi. Ciao.